Ciao da Goldi Unicorn Art, gli angeli hanno un messaggio per te. Vediamo quale. Un saluto dal cielo. Vedi, sei molto connessa. Qui l'arcangelo Azrael ti dice che i tuoi cari in cielo stanno bene di lasciare andare tutte le tue preoccupazioni che ti stanno mandando delle benedizioni. E presto ti riprenderai il tuo potere, ti dice l'arcangelo Raziel, quindi Azrael e Raziel. Usa il potere che Dio ti ha donato per manifestare soprattutto gioia e felicità nella tua vita. Un abbraccio.